Italo Balbo, nato il 6 giugno 1896 a Quartesana e morto il 28 giugno 1940 a Tobruk, è stato un politico, generale e aviatore italiano. La sua vita è stata ricca di imprese e controversie, e la sua tragica morte in volo ha segnato la fine di una carriera eccezionale. Biografia di Italo Balbo Italo Balbo è stato un uomo fascista, noto per essere stato il principale interprete dell'Emito e il successore di Benito Mussolini. Iscritto al Partito Nazionale Fascista dal 1920, Balbo fu prima squadrista e poi uno dei quadrumviri della marcia su Roma. In seguito, divenne comandante generale della Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale e sottosegretario all'Economia Nazionale. Nel 1929, assunse l'incarico di ministro dell'Aeronautica, ruolo in cui promosse e guidò diverse crociere aeree, tra cui la celebre crociera aerea transatlantica Italia-Brasile e la crociera aerea del decennale. Fu insignito del grado di maresciallo dell'aria. Considerato un potenziale rivale politico di Mussolini a causa della sua grande popolarità, Balbo fu nominato governatore della Libia nel 1934. Durante la sua amministrazione, lavorò per modernizzare l'infrastruttura e promuovere lo sviluppo economico della colonia. Tuttavia, la sua morte prematura in un incidente aereo durante la Seconda Guerra Mondiale segnò la fine di una carriera brillante e lasciò un vuoto nella politica italiana. Balbo è stato un personaggio controverso, ammirato da alcuni e criticato da altri. La sua passione per l'aviazione e le sue imprese aeree lo hanno reso una figura leggendaria nella storia italiana. Le critiche a Italo Balbo sono varie e spesso legate al suo ruolo all'interno del regime fascista italiano. Ecco alcune delle principali critiche. Collaborazione con il fascismo. Balbo è stato un membro attivo del Partito Nazionale Fascista e ha sostenuto il regime di Benito Mussolini. Alcuni lo criticano per aver contribuito alla diffusione di ideologie totalitari e per aver partecipato alla repressione politica e alla censura. Politiche coloniali in Libia. Durante il suo mandato come governatore della Libia, Balbo ha attuato politiche coloniali che hanno avuto impatti negativi sulla popolazione locale. La sua amministrazione è stata accusata di discriminazione e abusi contro i libici. Ambiguità sulla Seconda Guerra Mondiale. Balbo era un potenziale rivale politico di Mussolini e aveva opinioni divergenti su alcune questioni. Alcuni storici ritengono che, se fosse sopravvissuto, avrebbe potuto influenzare gli eventi della Seconda Guerra Mondiale in modo diverso. Eccessiva militarizzazione. La sua promozione delle crocere aeree e il suo ruolo nell'espansione dell'aeronautica militare potrebbero essere stati eccessivi e costosi. Morte misteriosa. La sua morte in un incidente aereo nel 1940 è stata oggetto di speculazioni e teorie, del complotto. Alcuni ritengono che potrebbe essere stato eliminato per motivi politici. In sintesi, Italo Balbo è una figura controversa, ammirata da alcuni per le sue imprese aviatori e criticata da altri per il suo coinvolgimento nel regime fascista e le politiche coloniali. La sua eredità è complessa e suscita ancora dibattiti.